La strada provinciale tra Polla e Teggiano, soprattutto con il rettilineo che va dalla Rotonda di San Rufo fino al centro della città musea del Vallo di Diano, torna a essere al centro di polemiche e proteste. Ma non solo questo tratto. Anche nell'aria, nei pressi del rondò tra Atena, Lucano e San Pietro e Altanagro, arrivano segnalazioni e proteste. Si tratta, ancora una volta, dello stato del manto stradale. Buche, dissesti vari, asfalto rattoppato fanno sì che percorrere questo tratto di strada diventi quasi un rally per i malcapitati automobilisti. E si segnalano diversi danni alle autovetture. Il rettilineo di Teggiano, a causa dell'asfalto, ma anche dello stato generale della strada, con restringimenti vari, mancanza di segnalazioni orizzontali, efficaci e presenza di detriti, è forse uno dei tratti stradali più pericolosi del Vallo di Diano. Per questo motivo sono molteplici le proteste, sia social che reali. Il manto stradale in pessimo stato ha denunciato più volte Codacons Vallo di Diano, con buche che rendono il tracciato molto accidentato, la segnaletica orizzontale era ed è del tutto assente e il sistema di deflusso delle acque piovane è in stato precario. In queste condizioni la circolazione sulla strada provinciale 39 risultava e risulta essere pericolosa, sia in condizioni climatiche ottimali che non ottimali. Considerando poi che tale strada è percorsa da mezzi pubblici, si legge ancora in un comunicato di Codacons per il trasporto scolastico e da un traffico privato sostenuto, abbiamo scritto all'ente provinciale per chiedere interventi.